Buongiorno a tutti, vi parlo di Antiege, un nuovo numero dedicato ai rancori e ai rimpianti come liberarsene, perché rancori e rimpianti sono nel nostro cervello, diventano sostanze chimiche che intossano il cervello e lo fanno invecchiare. Il mio lavoro mi ha insegnato che esistono tante persone che continuano a rimpiangere le scelte che non hanno fatto, oppure che ricordano con rabbia situazioni sgradevoli, traumi che sono accaduti e così non fanno nient'altro che far durare il trauma per sempre, le cose sbagliate per sempre, ma ogni volta che la rabbia dentro di me continua a presentarsi, io in qualche modo vengo attaccato dalla rabbia, perché la rabbia vuol dire creare sostanze chimiche nel cervello e quindi dobbiamo imparare a liberarcene. Come ce ne liberiamo? Ricordandoci che dentro di te esiste sempre un'energia creativa la quale ha poteri non soltanto rigiovanenti, ma veramente i poteri di trasmutare le cose. Come si contatta questa energia creativa? Prova a pronunciare queste parole. Oggi che cosa faccio di nuovo? Voi direte, ma caspita la mia vita è sempre uguale, perché dovrei fare cose nuove? Inserisci una cosa nuova, una cosa nuova. Cambi strada, va bene, metti un vestito con un colore che non l'hai messo, va bene, assaggi un cibo che non ha mai mangiato, va bene, telefoni una persona che non senti da tempo e che è la prima volta vuoi dirgli cose che non hai mai detto, fai cose nuove. Tutte le volte che tu inserisci una novità nel cervello, il cervello automaticamente fa partire la chimica del rinnovamento. Ogni cosa nuova ringiovanisce il cervello. Vi parlo di una signora di 67 anni che ho visto moltissimi anni fa e che veniva ogni tanto ai miei gruppi, adesso era molto tempo che non la sentivo, la quale aveva un problema di questo tipo, un marito che la tradiva continuamente, la tradiva anche con le sue migliori amiche, un rapporto di continua frustrazione, un senso di infelicità, di lamento, sempre, sempre, sempre che la portava a ricordare con rabbia tutti i soprusi subiti soprattutto dal partner. Anche il carattere del padre che era molto oppressivo creava rancori. E io le dissi molti anni fa, dice guardi che c'è qualcosa di nuovo che l'aspetta, ogni donna è sempre attesa da qualcosa che non sa cos'è, ecco perché bisogna cercare il nuovo. Per non ripetersi, i grandi saggi dell'ebraismo dicono che la ripetizione, continuare a ripete le stesse cose, prima o poi diventa una malattia, io sono perfettamente d'accordo. Innovazione, il mondo femminile soprattutto è fatto per l'innovazione, il mondo maschile è più ripetitivo, più standardizzato. Morale, questa signora aveva spento completamente il femminile, completamente. Si vestiva con abiti scuri dove non si vedessero le forme, ingrassava, era sempre scontenta, sessualità zero e mi raccontava di non aver mai raggiunto l'orgasmo. Ogni anno mi telefonava per salutare, lei sta piuttosto lontano, mi telefonava per salutarmi e per dirmi io sto meglio ma le cose non vanno bene, non ho più tanta ansia, le cose non vanno bene. Finché poi è stata, ha avuto un tumore al collo dell'utero, è stata operata, hanno tolto l'utero, le ovaie, insomma c'era sempre più una caduta, finché una sua amica le ha detto, ma donna ma come sei invecchiata, eri così bella. Ma anche questa non ha funzionato più di tanto. Poi il suo marito si è ammalato, insomma c'era un senso di melancolia incombente, era la donna della malinconia e io ogni telefonata che mi faceva, perché ci sentivamo raramente, le dicevo sempre guardi che ciò che non è accaduto in vent'anni, in trent'anni può sempre accadere, l'unica cosa, lei cerchi di inserire qualcosa di nuovo nella sua vita e così ha incominciato per esempio a mettere dei vestiti un po' più chiari, fino a che guardandosi allo specchio un giorno si è trovata attraente. Ha incominciato a piacersi e ha messo sullo sfondo tutte le cose che accadevano, i torti che avevano subito, che obiettivamente hanno stati tanti e una persona le si è avvicinata. Ma lei riteneva che non avesse alcun senso frequentarlo, anche se era un uomo che le piaceva molto. E poi mi disse io non ho mai raggiunto l'orgasmo, non ho voglia di avere un uomo con cui la sessualità sarà diciamo sgradevole come si è pensato con mio marito. finché mi ha telefonato qualche mese fa per dirmi, sa vede questo uomo mi piace molto, lo desidero però non ho voglia di entrare in una situazione come questa. E io gli ho detto guardi nella vita c'è un momento che tocca a noi. La bambina, la bambina, in ogni donna c'è una bambina, la bambina è viva. Se può piacere un uomo vuol dire che è viva, se le piace un uomo vuol dire che è viva, ma la bambina deve diventare una donna. Se no si occhiude in se stesso. Ema dice ormai io ho 65 anni. Finché, verso il 67, due anni dopo, mi ha chiamato per dirmi, volevo dirle ma io con quest'uomo sento una grande eccitazione ma non me la sento di andare oltre. E io gli ho detto queste testuali parole. Si ricordi che se qualcosa vuol portare ad andare oltre, vuol dire che lei è pronta ad andare oltre. Ma se lei non accetta che c'è qualcosa dentro di lei, una voce interiore che la vuol portare ad andare oltre, lei finirà per ricadere nel mondo in cui hai vissuto tutti questi anni. C'è un mondo senza vita, senza gioia. Mi ha mandato un sms qualche giorno fa che ho pensato di pubblicare sul numero di anti-eggi di questo mese dove mi ha detto non pensavo potesse esistere un piacere così grande. non pensavo che due corpi potessero fondersi nella passione, nel desiderio e nel piacere. Ecco, senza aggiungere altro, quando noi inseriamo nella nostra vita la possibilità che accada qualcosa, questo qualcosa prima o poi accade. ci cambia la vita, ci ringiovanisce, ci porta a realizzare quel destino che abbiamo sempre soffocato. Buona lettura.